Presidente, Gran Galà dello Sport si chiude un anno, un 2014 sicuramente importante per il CONI provinciale di Pescara? Certamente la delegazione provinciale del CONI di Pescara, ma non la delegazione direttamente, ma tutte le società, tutte le federazioni affiliate al CONI hanno fatto una notevole quantità di attività che ha portato a risultati di qualità e di questo non possiamo che essere contenti perché nonostante tutto, nonostante tutte le problematiche che conosciamo, le società riescono ancora a produrre risultati di rilievo anche internazionale. Speriamo bene per il futuro, speriamo ci sono segnali positivi per quanto riguarda i finanziamenti regionali a favore dello sport e quindi non possiamo che essere ottimisti. Ripeto, il fulcro dell'attività sportiva dilettantistica, perché qui parliamo di sport dilettantistico, sono i volontari, i volontari che riescono a muovere centinaia e centinaia di società ogni fine settimana. A me mi capita spesso di dire che se il pubblico funzionasse al 50% di come funziona il mondo sportivo dilettantistico saremmo nel paradiso terrestre. Tutto funziona alla perfezione, sono rarissimi casi di partite, di incontri, di manifestazioni che vengono sospese o non fatte, ma il più delle volte succede per situazioni atmosferiche, non per mancanza a livello organizzativo. Quindi un plauso veramente al mondo sportivo dilettantistico e speriamo in un futuro migliore.